Da come me l'hanno descritto, aveva un carattere molto forte, era un personaggio, no? Lui quando parlava gli altri stavano tutti zitti. Secondo me lui è stato sempre molto determinato. Era piccolino, non era di grande statura, ma lui a metà e tutti gli altri ascoltare. Di sicuro non erano sproveduto pur venendo da un posto molto piccolo, cioè. Un posto semplice, rigido, cioè rigido ma nel senso che era bravo, ma preciso, non ammetteva tante soluzioni secondarie. Era uno intelligente, comunque piaceva leggere, le faceva comprare il giornale del giorno prima, lo pagava di meno e comunque le notizie l'aveva lo stesso. Ma lui era a metà e nessuno ci avvicinava a interromperlo nei suoi discorsi. Era, come dire, era un filibustiere.